Il cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15 dove si segnalano 5 km di coda per lavori tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. In A11 4 km di coda per un incidente avvenuto al km 35 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per lo stesso motivo in direzione Roma si segnalano rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia sul versante Emiliano della direttissima. In A12 code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione Sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!